Di ciò che ti porti dentro, tu. E lui, mormorò mia figlia vedendo la foto sul computer, il delinquente che mi ha violentato. La discoteca in cui è avvenuto lo stupro si chiama Patatrack, dissi. Eravamo al commissariato per fare la denuncia. Sì, è una discoteca frequentata da spiantati e spacciatori del quartiere e non solo. Disse la gente che raccoglieva la denuncia. Con chi sei andata al Patatrack, chiesi dolorosamente. Con Armando, disse mia figlia con sufficienza, come se Armando non fosse importante. Invece Armando è molto importante, dissi. È importante quanto lo stupro che hai subito. Ma che dici, papà, mica me ha violentato Armando. Ma sei tu che frequenti Armando da mesi? Sei tu che sei stata attirata dalla forma coscienza e poi dalla forma pensiero di Armando, che ti ha portato al Patatrack? Purtroppo Armando e il Patatrack sono un riflesso di ciò che ti porti dentro, tu. Papà, non ti facevo così cretino, disse mia figlia. L'agente di polizia che scriveva la denuncia si mosse a disagio davanti al computer. «Vedi, dissi, guardando negli occhi mia figlia, il problema non è lo stupro che hai subito, ma sei tu. Spero che lo stupro ti accenda la luce e ti indichi la porta d'uscita del Patatrack e di Armando». Grazie. 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 Grazie.